La sfilata con carri allegolici allestiti dai quartieri, dalle frazioni e dei comuni limitrofi dell'entroterra tornano anche quest'anno per il Carnevale montorriese. La parata nel centro storico, organizzata dall'associazione Pro Carnevale e dalla Proloco di Montorio in collaborazione con varie associazioni, darà il via ai festeggiamenti carnevaleschi che culminano in Piazza Orsini con balli, canti, scherzi e musica. Una tradizione che ormai si ripete da anni, che terminarà con il mercoledì delle cene, nell'antico e originale rito del Carnevale morto, il funerale dei festeggiamenti. Una delle tradizioni della Montorio contemporanea, non so se possiamo affermare, che è più radicata nella nostra cittadina. Nacque appunto nel 1920, come hai detto tu, come una forma di protesta velata nei confronti del regime fascista e poi si è sempre mantenuta nel corso degli anni, fino al club che si era avuto negli anni 60-70 con qualche problemino con la giustizia. Poi nei primi anni 90, grazie ad alcuni amici che purtroppo non ci sono più e mi piace qui ricordarli, Gianni Celli e Alfredo Tertugliani, questa tradizione tornò in voga e grazie soprattutto a loro e all'associazione che cura questa manifestazione, oggi ancora possiamo rappresentarla. Il Carnevale morto è la degna conclusione di una festa che tutti conoscono. Praticamente è la processione del funerale di Carnevale, che teoricamente muore, sì è vero, il martedì sera, il martedì grasso. A Montori invece si continua a festeggiare il mercoledì delle ceneri con la processione del Carnevale morto, che è in forma satirica un funerale vero e proprio, quindi con il morto dentro la cassa, che è fatto da un nostro concittadino che si presta amabilmente a queste cose, con il prete, con la vedova, che è interpretata da un uomo e quindi anche con l'amante di Carnevale, che è anch'esso un uomo, quindi vi lascio immaginare quello che succede, tutto assolutamente improvvisato, come da tradizione. All'inizio venivano improvvisati da personaggi di Montorio che erano di spirito e anche così avevano una verve, una viscomica innata. Quindi abbiamo voluto lasciare l'impianto tradizionale del Carnevale, del Carnevale morto, lasciando tutto all'improvvisazione la bravura delle persone che collaborano con noi.